vi vedo tristi oggi davvero è una partita un po' tirata un po' tirata non tantissimo fluida insomma la capacità di andare in vantaggio poi ho usato questo rigore che forse potevamo temporeggiare diciamo nell'azione specifica questo è un po' quello che è stato l'unica situazione dove abbiamo sofferto la giocata e niente però andiamo avanti con il risultato positivo chiaramente sarebbe stato meglio vincere ma questo sempre vale per tutte le partite però abbiamo guadagnato un punto sulla regina del Livorno e adesso cerchiamo di andare a reggio un altro venerdì con un altro con un'altra carica Bene, succede